nice ma come non è morto what? arrivo con l'ultima friend shit ma veramente mi ha fatto il checkpoint fanculo così potevo morire due volte da stronzo ma è jesus ma cos'è il boss ma da dove spara? c'è la pistola ma spara ma l'avete visto clip c'è la pistola ma sparava col fucile da sinistra cioè sparava con una pistola invisibile oh tirati su adesso non è che perché sono gentile vuol dire che accetto sempre nooo a destra dove ma quanto è legnoso nooo a destra erei che accetta sempre che accetta troppo